Buonasera ai nostri telespettatori, ben ritrovati all'appuntamento con Il Fatto. Anche oggi conosciamo più da vicino i protagonisti della dodicesima legislatura in Abruzzo, i consiglieri eletti dopo le regionali del 10 marzo e soprattutto convalidati. Questa è la notizia delle ultime ore dalla Corte d'Appello dell'Aquila. Tra questi Marianna Scoccia, buonasera consigliera Scoccia. Buonasera a lei direttore, buonasera a tutti. Nelle file di noi moderati, che ha Marianna Scoccia come sua unica rappresentante in consiglio regionale, un risultato straordinario nella circoscrizione provinciale dell'Aquila, dove è riuscita a ottenere un seggio. Innanzitutto le chiedo, consigliera Scoccia, sono passate due settimane, abbiamo anche i dati ufficiali, e anche il numero di preferenze per la precisione, che comunque non ha cambiato il risultato per nessuno. Si aspettava questo risultato anche personale di consenso e anche comunque questo risultato politico molto rilevante per noi moderati? Per noi è stato un grandissimo successo, oltre 5 mila preferenze è un dato molto importante, è una riconferma perché anche cinque anni fa sono stata eletta con oltre 5 mila preferenze, quindi questo significa che ormai abbiamo un elettorato consolidato. Devo dire che in questi anni ho lavorato molto per l'intera provincia dell'Aquila, per tutto quanto il territorio, questo mio grande lavoro è stato premiato, un risultato straordinario con un grande impegno che tutti i giorni ha servizio delle nostre comunità, portando avanti delle battaglie molto significative, ma anche ottenendo dei grandi risultati. E questo devo dire che ha premiato anche il fatto ormai di essere un'amministratrice da anni, perché come tutti sapete oltre ad essere consigliere regionale sono anche sindaco, e quindi devo dire che l'elettorato oggi ha necessità di istituzioni forti, consapevoli, ma soprattutto con una grande capacità sui territori. Perché secondo lei la provincia dell'Aquila è stata così importante, anzi direi decisiva, nel dare lo sprint decisivo, quello che è riuscito a far vincere Marco Marsiglio? Beh, una provincia grande, quindi con tantissimi candidati, appunto candidati di peso, candidati forti, che hanno portato, abbiamo portato tutti quanti un grande risultato, e quindi questo straordinario 6 a 1 in provincia dell'Aquila è un dato significativo. Di questo sono ben contenta, perché questo significa che la nostra provincia, la provincia dell'Aquila, sarà una provincia molto rappresentata, ma soprattutto facendo squadra con tutti quanti i miei colleghi consiglieri, avremo modo di cercare di portare dei risultati importanti, così come è stato fatto nei cinque anni precedenti. C'è anche un tema di equilibri territoriali, ne abbiamo parlato tanto anche in campagna elettorale, rispetto appunto a comprensori come quello del centro Abruzzo, io penso anche all'Alto Sangro che non è rappresentato, insomma su cui c'è un carico credo anche aggiuntivo di responsabilità e anche insomma di rapporto con l'elettorato da tenere vivo nella prossima legislatura. Beh, io sono l'unica eletta del centro Abruzzo, e ovviamente ho una grande responsabilità sulle mie spalle, ma questo non mi spaventa, anzi mi dà ancora più carica ed energia per affrontare i tanti temi che abbiamo necessità di portare avanti. Rappresenterò ovviamente l'intera provincia e di conseguenza anche l'Alto Sangro, che oggi non ha una rappresentanza in Consiglio regionale. Questo non comporta nulla perché tutti quanti noi, ma questo lo dico da sempre, lo abbiamo dimostrato anche nei cinque anni precedenti, con tutti quanti i consiglieri, i colleghi della provincia dell'Aquila, abbiamo sempre avuto una grande capacità di collaborazione. Questo è stato anche motivo di grandi risultati sui territori, questo ci ha premiato e continueremo a farlo anche in questi cinque anni che abbiamo avanti. Come valutare il risultato di noi moderati, non soltanto in provincia dell'Aquila, dove in questo punto c'è questo risultato suo personale molto buono? È stato un grande risultato, il 2,7% in Abruzzo, sicuramente è stato un valore aggiunto per la coalizione di centrodestra. In Valle Peligna noi moderati è stato il primo partito, ha superato anche i partiti più grandi, tipo Fratelli d'Italia, Forza Italia, quindi questa è la dimostrazione che chi oggi è sul territorio, quindi me con tutta la nostra squadra, ha una grande forza. Lo abbiamo dimostrato anche nelle altre province, alcune sono andate meglio come la provincia di Teramo, altre un pochino meno, ma sicuramente questo risultato è stato un risultato molto importante, perché per certi versi per me non era inaspettato, anzi, però sicuramente per tanti altri è stato inaspettato, ma questo dimostra che noi moderati, che a livello nazionale ha un 1% sul territorio, sull'intera regione, ha dimostrato di essere una forza. Quindi siamo ben contenti oggi di iniziare a lavorare anche alla costruzione di questo partito che sarà sicuramente presente in Abruzzo. Ecco, adesso veniamo alle domande un po' più cattive. Secondo lei appunto questo peso verrà riconosciuto dal Presidente Marsiglio, adesso che dovrà comporre il suo nuovo esecutivo? Allora, sicuramente noi abbiamo un segretario regionale che è Paolo Tancredi, insieme al segretario nazionale che è Maurizio Lupi, che in questi giorni sicuramente avranno le interlocuzioni con il Presidente Marsiglio e saranno loro a decidere quello che sarà il ruolo per noi moderati. Io quello che mi sento di dire è che sicuramente per me la priorità, a prescindere dal ruolo, è di lavorare per l'Abruzzo fortemente, e soprattutto di farlo in questi cinque anni al fianco del Presidente Marsiglio. Per cui quello che lui vorrà per noi andrà bene, ma noi siamo determinati a prescindere dai ruoli, a lavorare e a portare risultati importanti sui nostri territori. La stessa domanda l'ho fatta proprio nei giorni scorsi, in questa trasmissione, prima con Erika Alessandrini e poi con Tiziana Magnacca. Soltanto tre donne elette in Consiglio regionale, c'è un problema? Sì, è vero, tre donne elette, sicuramente con le surroghe ne entreranno altre. Il problema fondamentale è che oggi c'è una difficoltà oggettiva per le donne di impegnarsi in politica, perché comunque portare avanti l'attività politica con la famiglia posso garantire, io che sono anche una mamma di due bambini, insomma non è semplicissimo, quindi questo è il dato fondamentale. Però ritengo che ovviamente a nessuna donna viene evitato di candidarsi, per cui il problema è a monte, ma non è sicuramente una colpa dei partiti. Ecco, in realtà bisognerebbe ritornare in realtà ai partiti, perché poi con la nascita di questi movimenti tanto è stato distrutto. E io lo dico con consapevolezza, perché credo di essere una delle ultime generazioni che ha fatto scuola di partito, che ha militato all'interno di un partito e che oggi mi ha reso quella che sono, facendomi fare tantissima esperienza, anche sul campo e quindi ad appassionarmi all'attività politica. Devo dire che il centrodestra ha sempre avuto un occhio di riguardo, perché ovviamente è il primo gruppo che ha un presidente del Consiglio Donna, quindi ha maggior ragione il partito di Fratelli d'Italia. Sicuramente c'è ancora molto da fare per il genere femminile. Sono però anche molto contraria su queste Quaterosa, perché fondamentalmente questa obbligatorietà della Quaterosa ha fatto sì poi che in campagna elettorale per comporre le liste e avere l'obbligo di tre donne per ogni lista si è dovuto ovviamente rincorrere qualsiasi persona, insomma, pur di mettere il genere femminile. Ecco, non dovrebbe funzionare così in politica, ma dovremmo essere noi donne ad appassionarci all'attività e cercare di portare dei risultati per i nostri territori. Io, insomma, mi sono appassionata da subito, da sempre, da ragazza e sono convinta che con delle azioni politiche a favore del genere femminile si potrà avere una rappresentanza sempre più maggiore. Però hai parlato di Quaterosa, le faccio un'altra domanda a proposito delle leggi elettorali. Ecco, ci sarà a suo avviso lo spazio per questa trasformazione che Marco Marsilio ha già nella precedente legislatura stimolato all'Assemblea dell'emiciclo, vale a dire passare a un collegio unico regionale si può fare probabilmente assai meglio nei primi sei mesi nella legislatura che poi andare a ridosso delle elezioni successive. Sarà un tema in agenda e a suo avviso andrà in porto? Allora, sicuramente il collegio unico è stato un tema che abbiamo già affrontato nei cinque anni precedenti. Non sono mai stata contraria a prescindere, perché ovviamente diversi consiglieri probabilmente hanno gestito il proprio ruolo più pensando ad essere un consigliere comunale di un territorio o provinciale piuttosto che occuparsi di temi che rappresentano e che caratterizzano l'intero Abruzzo. Sicuramente lavoreremo in questi cinque anni per il collegio unico e lo faremo confrontandoci con gli uffici, ovviamente, ma con l'intera maggioranza e decideremo insieme quello che sarà più giusto per il nostro Abruzzo. Marina Scoccia l'ha già ricordato in premessa, è stata protagonista di tante iniziative, di tante battaglie anche nella precedente legislatura. Ce n'è una che vuole portare a compimento, rispetto alla quale ha lasciato interrotto un percorso e lo riprenderà a partire dalle prossime settimane per una legge, una iniziativa alla quale lei è particolarmente affezionata? Beh, sicuramente c'è un progetto di legge che abbiamo lasciato in Regione in sospeso che è quello della parità salariale di genere, che è un progetto a cui tengo molto, ma ho già iniziato a lavorare su alcuni progetti importanti, primo fra tutti uno sul sociale, che sicuramente mi vedrà protagonista in Consiglio regionale. Adesso che i toni della campagna elettorale si sono un po' calmati, nella sostanza e nella concretezza soprattutto, il tema che ha un po' caratterizzato un po' il confronto e lo scontro della Ferrovia Pescara-Roma in particolare, sul territorio proprio del centro Abruzzo, di cui si è parlato poco, perché si è parlato molto invece della Val Pescara, perché sono i primi lotti. Secondo lei avrà una svolta sia in termini di finanziamenti che di progettazione? Sicuramente questo è stato un tema molto importante in campagna elettorale, i primi fondi sono stati ripristinati, è un'opera, mi sembra un po' come il ponte sullo stretto di Messina, se ne parla da anni, ma poi in realtà non si riesce mai ad arrivare a compimento, anche perché ricordiamo che sono passati diversi governi quando si è iniziato a parlare di questo argomento così importante, non mi sembra che ci siano stati delle azioni e degli atti concreti in merito. Sicuramente è un'infrastruttura molto molto importante, che vedrà la sua luce, la sua definizione probabilmente fra 30 anni e capite bene che fra 30 anni è un'opera ormai già vecchia. Credo che dobbiamo anche iniziare a parlare di altro e cercare di innovarci anche in termini di infrastrutture. E invece molto prima, tra 5 anni, sarete nuovamente valutati rispetto al tema della sanità, quindi che cosa dovrà accadere, perché dopo anni così travagliati, il Covid e tutto quello che è accaduto, anche in campagna elettorale c'è stata una grande attenzione su questo tema e si vada invece verso una sanità più vicina ai cittadini e anche più capace di rispondere in tempi celeri alle domande di salute, ma anche al grande tema della prevenzione e della medicina territoriale. Devo dire che in questi 5 anni in termini di sanità è stato fatto molto. L'Abruzzo finalmente ha una rete ospedaliera e questo ha fatto sì ovviamente di salvare innanzitutto degli ospedali. Faccio l'esempio dell'ospedale di Sulmona, che oggi finalmente è diventato primo livello e è stato anche salvato il punto nascita. Ovviamente si partirà con la costruzione del nuovo ospedale di Avezzano, per cui anche in termini di edilizia sanitaria c'è molto da fare in questi 5 anni, ma sicuramente è un obiettivo fondamentale che poi è anche quello che accadrà a livello nazionale, è l'abbattimento delle liste d'attesa. Oggi è un problema fondamentale, un problema purtroppo presente nei nostri ospedali, ma non è sul tanto qui in Abruzzo, è a livello nazionale. Sono stati già inseriti diversi fondi, soprattutto anche per l'asile dell'Aquila, proprio per l'abbattimento delle liste d'attesa. Oggi però possiamo dire con convinzione che grazie all'approvazione della rete ospedaliera abbiamo i prossimi 5 anni la possibilità di iniziare a lavorare seriamente attraverso una programmazione. Si sta andando avanti con i concorsi da primari, sempre in Belle Peligna, in provincia dell'Aquila, si stanno completando gli ultimi primari e capite bene, questo dà una certezza, una stabilità ai nostri ospedali. Bene, prima di salutarci, io provo a rifare la domanda in un altro modo. Abbiamo già detto che Marsilio si incontrerà con le forze politiche, c'è la vostra massima disponibilità al confronto e anche a disponibilità rispetto a quella che sarà comunque qualche postazione di rappresentanza o anche di governo da parte di noi moderati. Ma c'è un'aspettativa personale rispetto a uno specifico settore su cui Marianna Scoccia pensa di essere davvero pronta a fare un'esperienza di questo tipo? No, non ho un'aspettativa. Io credo di aver dimostrato in tutti questi anni ormai di avere anche una certa professionalità che ho acquisito sul campo e una grande esperienza. Io sono pronta per tutto quello che il Presidente Marsilio riterrà opportuno che io faccia. Non mi limito a niente, c'è tanto da fare in Consiglio regionale, l'ho detto anche prima, al di là dei ruoli. Il nostro impegno lo abbiamo dimostrato, io l'ho dimostrato e continuerò a dimostrarlo. Benissimo, allora vedremo nei prossimi giorni. Grazie a Marianna Scoccia, ancora congratulazioni per l'ottimo risultato elettorale e buon lavoro per la dodicesima legislatura. Arrivederci.